La novità assoluta di quest'anno è che dopo il successo delle prime due manifestazioni dell'anno 2017-2016, quest'anno c'è un ampliamento importante per quanto riguarda il panorama del motociclismo perché la Fiera va a prendere praticamente tutti i settori dedicati al monto della moto e in particolare l'abbiamo suddivisa in tre settori, che è il settore custom già presente anche l'anno precedente, con tutti i customizzatori e preparatori delle varie motociclette, provenienti da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero, poi abbiamo una parte importante dedicata alla parte vintage, quindi moto d'epoca, presente anche in questo in modo molto evidente, soprattutto con pezzi che saranno veramente importanti per i visitatori. La novità di quest'anno invece è il settore dell'all bikes, all bikes è il settore di tutte le moto dove saranno praticamente presenti tutte le moto del panorama motociclistico nazionale rappresentate dalle concessionarie di zona che porteranno tutte le varie novità e anche con la possibilità tra l'altro di fare delle demo ride, delle prove durante i giorni della manifestazione e questa è una cosa sicuramente molto aggredita dal pubblico. Grazie. Grazie. Grazie.